Padula ha un nuovo sindaco, anzi la sua prima donna sindaco. Con quasi 600 voti di differenza ed una percentuale indiscutibile del 58,23%, il popolo di Padula ha scelto Michela Cimino alla guida del comune. Uno spoglio in discesa per la lista Padula vota chi ti ascolta che sin dalle prime schede scrutinate ha fatto emergere la sua forza. Un vantaggio acquisito da subito e consolidatosi nel corso del tempo fino al momento in cui la lista di Michela Cimino non era più raggiungibile e a quel punto al vie festeggiamenti per scrollarsi di dorso l'ansia e la tensione dei giorni di campagna elettorale. Un momento magico che ha cercato di descrivere una emozionatissima sindaca di Padula che a vittoria acquisita ha raggiunto il suo gruppo per festeggiare insieme una vittoria sperata e immaginata ma comunque sofferta. Devo dire solo grazie ma grazie di vero cuore ai cittadini di Padula e anche perché forse è la prima volta che Padula non è divisa. Saremo sicuramente un popolo unito. Chi si sente di ringraziare in particolare? Col cuore in mano mi sento di ringraziare alla mia lista che sono stati dei ragazzi fantastici. Hanno lavorato tantissimo in questi ultimi dieci giorni. La prima cosa che vorrà fare da sindaco? Dopo la vittoria e giustamente la festa vorrei puntare prima cosa a lavorare con i giovani, la prima cosa che vorrei fare. I giovani che poi alla fine le hanno dato fiducia perché... Sì, molto fiducia. Possiamo dire che per Padula si apre una nuova pagina. Sì, una pagina soprattutto diversa da quella del passato. Cambia volto quindi l'amministrazione di Padula con Michela Cimino che sarà sostenuta nei prossimi cinque anni di percorso amministrativo da Caterina Di Bianco che ha ottenuto 511 voti, Vincenzo Tardugno 413, Antonio Fortunati 346, Letizia Caputo 266, Roberta Giudice 264, Giuseppe Tierno 264, Rocco Cimino 257 e Giuseppe Abbatemarco con 243 voti che ha anche commentato sulla sua pagina Facebook l'elezione ringraziando tutti i suoi elettori ed elettrici e la famiglia che l'hanno sostenuta. È stata una grande vittoria, ha scritto Giuseppe Abbatemarco, la vittoria di tutti i padulesi. Sconfitta pesante invece per la compagine di Padula, visione comune capeggiata da Dario Tepedino e sostenuta dal sindaco uscente Paolo Imparato che dovrà sedere tra i banchi dell'opposizione. Entrano come consiglieri di minoranza oltre al candidato sindaco Tepedino Filomena Chiappardo con 437 preferenze, Tiziana Bove Ferrigno con 354 voti e l'ex sindaco Paolo Imparato che risulta essere l'ultimo degli eletti con 275 preferenze.